Ho diretto a Montalbano per un evento doloroso che è stato l'abbandono alla seconda settimana da parte di Alberto Sisoni del 7 per un male che l'ha portato prima in ospedale e poi ad andarsene. Io ho chiamato a raccolta tutti, ho detto ragazzi prendo io il testimone, penso che sia la cosa migliore, siamo una famiglia, vediamo di farli nel modo migliore possibile. Prima di tutto perché quando torna Alberto se no ci prende a parolacce, qualche parolacce ce la dirà sicuramente, ma almeno facciamo in modo che ci dica anche qualche bravo. Ho girato pensando a come l'avrebbe girato Alberto Sisoni, poi siccome ognuno di noi aggiunge sempre qualcosa a quello che fa, io credo che di mio in queste due puntate c'è quella che ho chiamato una dolorosa melanconia, che era un po' il sentimento che pervadeva il set perché Alberto era lontano. Per me Andrea Camilleri è stato un grande maestro di vita, io ce l'ho avuto come maestro d'accademia quando avevo 18 anni, quindi era un giovane uomo che pendeva dalle labbra di questi personaggi. Per fortuna ho avuto tante persone che mi hanno insegnato tante cose, Andrea è stato uno di questi e se dovessi dirla una mi ha insegnato lo stupore del mondo. Lui quando avevamo una lira nemmeno per affittare telecamere perché l'accademia era un momento di difficoltà enorme, ci raccontava, era già un grandissimo affabulatore, ci ha insegnato a guardare le cose e a scoprire dentro le cose la straordinarietà delle stesse. Noi spesso e volentieri le cose proprio non le vediamo, perché non ci fermiamo, perché non le notiamo, perché siamo dentro il nostro mondo interiore, perché non ci interessano, perché andiamo di corsa, perché siamo addolorati, perché abbiamo il mal di pancia, però è un enorme patrimonio su cui costruire il proprio sé, la propria identità, la propria vita. Lui in qualche modo ha tentato di trasmetterci questo amore per le piccole cose. Innanzitutto, ho detto anche prima, questo è un momento un po' particolare per tutti noi. Io vorrei che questi due episodi che presentiamo andassero benissimo, perché li vorrei come una festa per salutare questi nostri tre eroi che se ne sono andati, Andrea, Sironi e anche Ricceri, che è stato il padre dei luoghi di Montalbano. Vorrei che lo facessimo però non in modo mesto, come di solito uno esce da un funerale, ma in maniera allegra, vivace, come loro avrebbero voluto, perché hanno tre filibussieri che si sono goduti la vita fino in fondo. Dopodiché, una volta fatto questo, una volta averli festeggiati in questo modo, e spero che saremo in tanti davanti alla televisione a festeggiarli, mi siederò su una poltrona, mi faccio prestare un cammino e rifletto. Se mi andrà ad andare avanti, si andrà avanti. Se penso che sarebbe troppo doloroso senza queste persone, forse è anche il caso che ci fermiamo. Ma non lo so, voglio elaborare questo lutto, voglio far sedimentare l'esperienza, anche importante, che ho fatto in questi ultimi anni e poi vedere. Non mi va di dire delle cose adesso a caldo. Si è stato tanto scritto su Montalbano Televisivo, ma secondo me ancora poco. Forse dovrò scrivere un libro io, perché sono state un po' lasciate in secondo luogo tante cose. Una cosa è uno scenografo che fa una bella scenografia per un film. Questo ha creato un evento di vent'anni, dove ognuno ha messo qualcosa di suo di molto importante. I luoghi che Ricceri aveva scelto hanno creato un mondo onirico, una distanza da quello che è, che è proprio quello che serviva per la scrittura camilleriana, che è sì una scrittura ovviamente fatta di parole, ma non è una scrittura naturalistica, tra virgolette. Dietro le parole di Andrea Camilleri si intravede un mondo, si sentono degli odori, si sentono dei sapori. Serviva una distanza rispetto a tanti altri prodotti televisivi o cinematografici che se ne fanno. Gli interpreti di questa distanza sono stati Alberto Sironi, che si è avvalso in maniera preponderante delle intuizioni di Luciano. Luciano ha inventato un mondo. La vigata è uno dei posti più ricercati e visitati negli ultimi dieci anni. Non dico in Sicilia, dico in Italia. Si è creata un'industria del turismo. Perché? Perché quella roba là dà un sapore, dà un senso, dà un immagine. Rimanda a una dolcezza, rimanda a una melanconia, rimanda a una nostalgia che tutti quanti noi ci abbiamo dentro, al di là delle cose che abbiamo vissuto nella vita reale.